ieri mia figlia piccola 9 e mezzo di storia, queste sono soddisfazioni, mia figlia piccola onestamente non me lo sarei mai aspettato, è studiuto professionale però onestamente non ci avrei scommesso una lira, stiamo registrando tutto? No, questa la taglio, se mi manda io, se noi ci presentiamo con figli dell'estello è bellissimo guardate